Uno dei video più dibattuti dello scorso anno è stato quello del rapporto tra DJ e musicisti. Abbiamo parlato innanzitutto del termine suonare. In questa sezione mi preme invece entrare più nella pratica e nel dettaglio delle interazioni possibili e di come realizzare una collaborazione proficua tra DJ e musicisti. Capita certe volte che un DJ si trovi a suonare con un musicista durante una serata. Andava di moda molti anni fa con le percussioni oppure il sax. Adesso si può sentire anche la chitarra, il violino, anche un cantante. Tanti tipi di spettacoli live nel quale DJ e musicista creano una serata insieme. E' importante che entrambi si adattino all'altro per poter realizzare una collaborazione proficua. Cosa deve fare il DJ quando si trova un musicista accanto? In qualche modo deve cambiare il suo modo di suonare e adattarsi alla situazione. Innanzitutto usare il master tempo o qualcosa di simile. Non puoi cambiare continuamente la tonalità del brano mentre un musicista sta suonando accanto a te. Altrimenti quello deve o accordare lo strumento oppure cambiare accordi. E lo deve fare mentre sta improvvisando o sta creando qualcosa. Di conseguenza tenere una nota fissa anche se non ti piace, però per quella situazione lo devi fare. Poi quando suoni da solo puoi usare anche il pitch che aumenta insieme all'aumento della velocità. Cambia anche il modo di mixare i dischi. Cerca di sfruttare il fatto di avere un musicista accanto a te per migliorare il più possibile la performance della serata. Di conseguenza gli puoi concedere degli spazi, delle introduzioni. Puoi utilizzare brani più strumentali per lasciare spazio. Oppure quando il musicista preferisce un arrangiamento più pieno, inserire dei brani più complessi. Puoi mettere dei loop per fare in modo che il fraseggio si allunghi, a differenza di quello che è concesso di solito nei brani più radiofonici ad esempio. Se si tratta di un percussionista puoi utilizzare delle tracce con un arrangiamento più minimale, in modo che sia lui a creare il groove o quantomeno ad articolarci qualcosa sopra. Se si tratta di una cantante puoi utilizzare delle versioni più dub o più strumentali. Cerca di sentirti a tuo agio con un musicista accanto e di rendere agevole anche la sua performance. Rivedi un po' la tua selezione e anche il tipo di mixaggio. Quando hai un musicista che interviene puoi tenere i dischi un po' di più perché le persone non si annoiano se ci sentono qualcosa di nuovo sopra. Puoi evitare quindi di cambiare i dischi in modo più serrato per questa serata. Puoi creare dei momenti di vuoto, delle introduzioni, delle pause, lasciare il campo libero qualche secondo, sfruttare delle ripartenze. Insomma creare anche dei momenti di silenzio addirittura perché hai qualcuno con cui puoi riempirli. Cerca di sfruttare al meglio avere un musicista accanto a te e se ci fai attenzione a come nasce questa interazione puoi anche migliorare il tuo DJ set anche per le serate successive quando sei da solo. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!